Non c'è nessuna storia di danza che mi rappresenta appieno. Tutti gli stili che ho studiato e praticato nel corso degli anni, durante lezioni, lavori o anche show in strada, hanno solo arricchito quello che io già sono. La danza per me rappresenta tutto, la libertà di espressione, di movimento, sento a diventare di vivere come voglio vivere senza dover stare a fare cose solo perché un sistema l'ha deciso per me. Italia-Africa mi fa venire in mente la mia famiglia, mi fa venire in mente quello che sono. Essendo io per metà italiano e per metà tunisino, sento entrambe queste parole vicino a tutto quello che mi riguarda. Italia in particolar modo la sento mia, la sento confortevole perché sono sempre cresciuto con questo essere italiano, con la tradizione, la lingua, la cultura, che è lo stesso paese dove vivo. Mentre la Tunisia è qualcosa che scopro ogni giorno in me, magari guardandomi allo specchio, ritrovando alcuni dei miei tratti più nascosti. È una direzione che sto apprendendo ultimamente, anche grazie alla danza, grazie al movimento, grazie appunto a questa voglia di scoprire dal mio corpo quello che sta intorno al mio corpo. Grazie a tutti.